Ciao e bello a tutti ragazzi sono Maximus e siamo qui in un nuovissimo video ragazzi Oggi siamo su Hey Monster Cioè ragazzi siamo sui Pokemon Mettiamola qui allora go Allora ragazzi ce l'ho in anteprima Credo che sono forse i primi in Italia a farlo Infatti come vedete Hey Monster Vi volevo forre un episodio di Hey Monster perché è abbastanza figo Guardate ragazzi è il gioco della Nintendo fatto telefono Qui sotto c'è il link del canale di Maximus Sì il mio canale c'è scusate se c'è la telecamera C'è il canale di The Falcon 06 Cavolo sta telecamera Ok clicchiamo lì Oh battaglia Raga non so come metterlo il telefono Oh PG Come vedete io c'ho Thunderman Raga blocco un secondo Succedono cose come Comunque allora attacchiamo Aia vai BAM Bel colpo Ok bag Pokeball Vai lancia 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 Dai che è la più Raga è fighissimo come vedete Uno Due Banco wrestling Sono con mamma mia raga E raga forse domani uscirà il video Il video che cambierà il canale Ve lo mostrerò domani Forse domani Forse domani Allora Ah finalmente ci possiamo muovere Raga Raga Disattivo la telecamera Perché Mi sta bloccando il gioco raga Scusate ma ce l'ho in anteprima Quindi se mi dà dei problemi È perché devo eliminare la telecamera Perché ci ho provato un bel di volte E mi è crashato un paio di volte il gioco raga Quindi spero che non mi crashi mentre sto giocando Se non è un problema Ok lui ancora non mi ha attaccato Come vedete c'ho due pokemon Potevo prendere Bulbasaur ma Bulbasaur non Non mi ispirava perché non l'ho mai preso Ho sempre preso Shanderman E non voglio mai provare altri pokemon Niente lo dio Taglielo il colpo Niente me li sta schivando tutti raga Ok Stordito Cavolo Lui mi sta sempre più stordendo 5 di vita Direi di colpirlo un'altra volta Sì 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 raga Messaggi Bam E andiamo È a terra Mamma mia raga Scusate per la facecam Ma come vi ho detto mi può crashare Quindi sto Sto Non possiamo andare avanti Va bene Torniamo indietro raga Come vi ho detto forse forse sono il primo in Italia a farlo Quindi raga scrivetemi Arriviamo a un mi piace per il prossimo episodio perché ve la sto portando in anteprima Quindi portandola in anteprima Allora direi di 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 cosa potremmo fare Go Vediamo cosa Help To joy And catch And pj Forse ho sbagliato Comunque raga volevo pikachu ma non so come si riprende Se sapete me lo dite per così io ricominciare la storia Uh bella Megaball L'esperienza è cinque pokeball normali Va bene Ok raga I got l'ughia Bello l'ughia Mamma E la peppina dai dai Fammi giochiare non spendo soldi Io non sono un giocatore che spende big money Ok credo che stiamo per fare una sfida dai Dai si Non mi ha crashato raga Che culo Stava per crashare Ok allora scrunch subito Bam Un colpo gli ho dato Raga battaglia velocissima Sono abbastanza forte La serie di minecraft continuerà raga PQ 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 Ultra ball Bella l'ultra ball Va bene Ok livello Lo facciamo salire di livello Ok quindi l'abbiamo fatto aumentare di livello Vediamo se lo possiamo fare Allenare No Non ci bastano i punti Va bene Andiamo alla seconda challenge Per essere liberi Quindi dobbiamo fare la seconda challenge Mi arrivano messaggi di youtube Basta va bene Sto registrando Sto registrando Lasciatemi in pace Oh Caterpie Vai scrunch Bam Prima colpa Terra Il nostro Sanderman E' femmina Non è maschio Speravo di trovarlo Magari femmina Perché mi piace E' maschio Perché mi piaceva di più Magari maschio Quindi pure questo abbiamo fatto Andiamo a fare la Terza challenge Che non so quante challenge sono Ma credo che sono Più di tre Quindi Raga è normale Non vi farò vedere Tutte le challenge Perché Midoran A livello 2 Va bene Direi di Attaccarlo così Bam Scranchi Scranchi Bam E va a terra Pure lui Stiamo andando Veloci veloci E raga Come vi ho detto In anteprima Qui sotto C'è Il link Oh Ecco Quest completata Però c'è ancora Un'altra Challenger Da fare E infatti Non mi sbagliavo Vi volevo dire Che Al più presto Ritornerà Clash Royale Perché Già da un po' Che non lo faccio Vi volevo dire Qui sotto C'è Il Link Che cos'è Questa cosa Uuuuh E vi volevo dire Che questo Episodio Sarà il primo Di una serie Perché Pure se non Lasciate il like Raga La volevo Continuare Perché io Sin da piccolo Sono stato Un fan Dei pokemon Infatti Raga Non c'è La facecam Ma in un vlog Vi mostrerò Che l'altra volta Mi sono andato a comprare Un pacchetto Di figurine E il pacchetto Gioco di carte collezionabili Vabbè Normale Pokemon Nero e bianco Vittoria e regali Raga E non ci ho trovato Quasi niente Come rara Ci ho trovato Qualche animaletto Qualche Copia Raga Nel prossimo vlog Che credo Che sarà Dopodomani Quindi lunedì Ci sarà Qui sotto C'è il link Del canale Di The Falcon 06 Il mio link Della mia pagina Pagina Instagram Di Instagram Credo Che finalmente Abbiamo finito Di fare Queste cose Break Bam Ah mi manca solo Squirtle Vabbè Vabbè raga Vi salto un pochino Le parti Per così Non andiamo Ok raga Dopo aver sconfitto Un po' di Allenatori Sembra che siamo andati In un altro Percorso Come vedete Stiamo aspettando Il caricamento Che bella Sta immagine Ok Eccoci qua Ok Questa è completata Benissimo Oh la mappa Che figa Guarda tutti i giocatori Che si muovono Ok Oh Quante cose Ok Allora Direi di Iniziarci A muoverci Per i calvi Alli nostri E incontriamo subito Un pokemon Finalmente Cater E wiggle Pure io Allora Direi di Eliminarlo veloce Perché non mi Non lo catturo Perché Non mi va Di farlo aumentare Di livello Magari se incontro Un pokemon Di livello 5 6 7 Me lo prendo Perché già È un pokemon Che Potrebbe Andarmi bene Qui dobbiamo tornare Indietro E incontrato Un altro pokemon Sempre lo stesso Mi sta crashando il gioco No Caterpie Caterpie Lo catturo No Troppo potente Sei troppo potente Vabbè Pazienza Tanto Avremo Altre occasioni Quindi Allora Ci sbrighiamo Ok Vediamo Un po' Dove andiamo Led Loves Ah Qui si possono fare Scambi Ah no Raga Il gioco sta per crashare Secondo me Fra qualche minuto Crasherò Il bello Il bello Stroop Se potrei Me lo prendo Bello Ok Abbiamo vinto Facile Raga Alla fine Sei Forte Ma se Hai un pokemon Che di danno Fa Zero No La connessione Raga Per ora Sta crashando Da morire Quindi Raga Non credo Che Sti episodio Durerà Lo volevo Fare durare A meno 20 minuti Ma non credo Camper Mauro Perché Si chiama Mauro No Vabbè Mauro Mauro Oh my god Mauro Rattata Bello Lo catturerei Un rattata Se lo trovo Lo troverei Se lo troverei Me lo Me lo catturo Perché è buono Raga Il rattata A meno Per quello Che voglio fare Io Con il rattata È buono Perché lo vorrei Fare evolvere E poi Mettermelo Nella squadra Quindi Vediamo Cosa possiamo Fare Subito Evolvere Certo Oh my god Oh my god Cosa C'è 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 Evolvendo Oh my god Oddio Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Mamma mia Raga Congratulation Il tuo C'anderman E si è E si è Evoluto Inunciarmi Leon Non ho mai capito I nomi Harrison 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 Cosa Vabbè Non ho mai capito Sti nomi Quindi raga Non chiedetemi Per ora Vi salto Sta parte In cui Combattiamo Aspettate Prima vi volevo Fare vedere Vediamo La forza Che c'ha Sto Pokémon Al più presto Vorrò Charison Raga Al più presto Ok Andiamo subito Con un Fire Bam Boom Eggshot E c'ha Molta più vita Raga Ora c'ha 66 di vita Più di prima A meno Tipo Ci danno Un colpo Quello di Dei colpi Prima Se ci davano Un colpo Ci ci davano In un solo colpo Ora Più colpi Ci devono dare Allora Però Mentre Viaggiamo Raga Si Vuole combattere Raga Vi salto La parte Dove combattiamo Ci vediamo Eh raga Vi volevo dire Che uscirà Una nuovissima Serie Di Dragon Ball Xenoverse Cioè Volevo iniziare La storia Di Dragon Ball Xenoverse Nei Vecchi episodi Vecchi episodi Nel Vecchio Nel Se voi Andate al fondo Del canale Forse Li ha cancellati De falcon Quei video Ci sarà La La possibilità Forse Di vedersi Come si chiama Dragon Ball Il seno Verso Verso La storia Io Comunque La voglio Iniziare E la Voglio Finire Vi farò Tutti i segreti Le sfere Del drago Ehm Non Pi No Pi Picky Raga Non so Come si chiamano Non è colpa mia E lui Come l'ho trovato Ma ora Io viaggio Per mondi 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 ancora vabbè raga vi salto ok raga ho combattuto all'incirca contro 20 combattenti cioè raga la registra la registrazione l'ho iniziata alle 8 sono le 9 cioè raga un'ora ci ho messo round 3 raga vediamo la mappa ah la mappa pure del mondo c'è a posto trasferiamoci raga non è completo ma la storia di quello che so è molto lunga andiamo dal professor che ci ha dato i pokemon spero che mi dia pikachu dammi pikachu almeno che va bene usa il trasferi va bene trasferiamoci raga andiamo cosa fare non so cosa dirvi raga aspettiamo il caric eccoci qua round 3 raga credo che sia l'ultimo forse è l'ultimo perché abbiamo affrontato il round 1 round 2 round 3 però il round 3 è fatto di altri combattimenti il round 3 raga vi dovevo dire che era vari round io già prima di registrare avevo fatto il round 1 poi ho fatto il round 2 ora e il round 3 e il round 3 l'abbiamo fatto appena insieme strong uh la forza ok si fammela evolvere ciao tu quanto c'è bene ah lui non si evolve ok capito direi di muoverci e infatti facciamo la seconda challenge del terzo round raga direi di farci sto terzo round ve lo salto e ci vediamo tra raga guardate c'è un diglett vabbè morto subito c'è un diglett che bello oddio mio ciao mia mordio vabbè vi salto ciao che bella la musica forse per voi era troppo alta non lo so spero che si senta la musica raga ok cerchiamo un pokemon trovato come vedete quando troviamo un pokemon si va a bloccare perché c'è la registrazione attiva e questo livello 5 subito cattura cosa no ma porca la miseria che ci balli no raga ma vaffanculo vaffanculo cerca un pokemon dammi un pokemon ora mai più dammi oh oh che c'è no ma vaffanculo raga è crashato oh no oddio stavolta manco l'attacco direttamente puff vai bag pokeball pokeball vai 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 lancia 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 dai che lo catturiamo no allora lo stordiamo bam stordito al massimo raga aia fa male vai 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 lanciala 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 dai dai raga dai dai mani al cielo no no cavolo no great ball dai raga sprechiamo pure questo dai 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 megaball 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 sì e andiamo e andiamo e voi andiamo raga e andiamo catturato pure stavolta mamma mia non trovarmi pokemon adesso prendi che bella oh my god oh my god no no sai non mi trovi un pikachu ti ammazza legnate ti do legnate hanno i due hanno i due manchi ok allora lanciagli subito questa che viene stordito e gli lanciamo una megaball eeeh no megaball è l'unica raga gli buttiamo una megaball ok dai dai che ti ha catturato dai 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 sì alla prima alla prima prendilo andiamo 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 ok usciamo da questa foresta aaaah vabbè ragazzi io direi che questo episodio di hey monster o pokemon jingypluff jingypluff può finire qui eeeh io mentre sconfiggo sto jingypluff va ancora clash royale eeeh eeeh quindi ragazzi io direi che questo episodio può pure finire qui ci vediamo al prossimo episodio ooooh 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 volevo fare un finale epico ooooh 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 quindi ragazzi bello ragazzi ma porca la miseria una intro una intro un finale un finale manco quello era un finale perfetto era un finale perfetto quindi ragazzi direi che questo mi sono quindi ragazzi bello ragazzi shoo Ciao!